Buongiorno ragazzi, cosa desiderate per primo? Mmm, questa bella pasta, ne voglio un bel piatto. Pauline, per me un po' di risotto, c'è? Vediamo, chiedo in cucina. Risotto italiano mi piace, anche se in Cina lo cuciniamo in altro modo. Zuh, hai preso le posate? Sì, eccole, forchetta, coltello e cucchiaio, c'è tutto. La cosa bella in una mensa aziendale è che si mangia tutti insieme, no? Mi spiace Zuh, niente riso, vuoi un secondo? Cosa c'è? Merluzzola livornese? Che cos'è? È un pesce dell'oceano atlantico, cucinato come fanno a Livorno, con le olive nere, i pomodori e il vino. Proviamo! E per te Pavel? Per me la pasta, ma prima vorrei un antipasto. Formaggi assortiti? Perfetto! Ehi Zuh, tu conosci le orecchiette? Mmm, buone! È una pasta pugliese. E gli gnocchi? Ottimi, sono fatti con le patate. Quanti sono i tipi di pasta italiana? Conosci anche i canederli? Certo, certo! Ah sì? E come sono fatti? Beh, sono lunghi come spaghetti. Ah sì? Sì! Non proprio lunghi, abbastanza lunghi. E di semola, si mangiano col suco. Zuh! No! Quelli che mangio io a Trento sono tondi e si fanno con il pane, il latte e le uova. Ah sì? Sì! Beh, ma io non li mangio a Trento. Li mangio a Napoli. Canederli alla napoletana. Lunghi come spaghetti. No, no! Ciao! No! Ciao!